ehm crime.net ci sono con un'attesa di risposta sempre apportionito siamo dentro ci sono un'attesa di risposta io c'ho la bandiera americana in testa vedo, vedo sei molto carino con la bandiera americana in testa e il ghigno diabolico facciamo un inizio? eh, questo è il briefing si allora, questa è la banca di dimensioni medie non sarà facile, ci interessano i contanti dobbiamo entrare nel cavo tirare fuori il trapano termico perfurare il cavo, mettere i soldi nei borsoni e raggiungere il furgone sarà un puttanaio pronto? si pronto ok il trapano termico è nel parcheggio va bene allora ragazzi qualcuno di voi dovrebbe probabilmente possiedere l'abilità di disattivare le telecamere non ho idea di chi abbia questa abilità come sei brutto non ho la maschera adesso ragazzi eh no siamo in fase allora qua funziona che quando metti la maschera parte il colpo quindi se ti sgamano con la maschera sei nella merda andiamo a prendere il trapano c'è scritto di mettere la maschera ah il tasto G allora fermo sì il fatto è che se metti la maschera parte tutto praticamente bene ho preso il trapano a prendere la maschera ok ok tu ti mascherai finirà malissimo già me lo sento quindi adesso dobbiamo andare ma io non c'è un borsone sulle spalle per caso eh sì c'è un borsone sulle spalle penso che ci stiano sgamando ok non hanno sgamato opti non dobbiamo sparare civili hanno sgamato ho ucciso un civile io l'ho ucciso anch'io l'ho ucciso ho ucciso di un civile dov'è il cavo qua dov'è il cavo è qua sempa prima dobbiamo vieni com'è il cavo dobbiamo legarli sempa tu hai il trapano fai battere il trapano subito faccio un massacro intanto cerca il cavo cerca il cavo non è qui che devo mettere il trapano termico devi posare il trapano termico qui qui dove l'ho messo qui andiamo agli sbirri che mancano 175 secondi allora attenzione siccome si ferverà durante volte dovete far darmi il culo mi raccomando più sbirri morti cazzo più sbirri morti per tutti io che non sono morto subito ah no come sei morto no no sono vivo sono vivo ho tirato fuori il mitra io intanto sto scassinando una porta sul retro che ci parloirà all'uscita vedo bravo il trapano termico si è bloccato ci penso io 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 ci penso che sto facendo io ci faccio una strage morite tutti 100 secondi 100 secondi aiuto ci sono gli SWAT ci sono gli SWAT dietro cacchio questo fu ci sono gli SWAT ci sono gli SWAT ci sono gli SWAT ci sono arrivati da dove? da dietro eh voi errate soltanto da avanti ma che strage ci sono gli SWAT ci sono gli SWAT ci si fermeranno mai 100 secondi Chi fa dentro? Aiuto, aiuto! Ma le bombe qualcuno ce le ha? No, no. Sai che si comprano più tardi. Zio Carlo, voglio le bombe. Copritemi, copritemi indietro che vuoi fare i partiti del trapano. Ok, io sono morto. No, aspetta, non sei morto, dove sei? Io sono morto anch'io. L'ho finito troppamente ma sono vivo. Io anch'io. Arrivo, arrivo. Io sono sempre io. Grazie. Mi sta aiutando. Grazie. Fuori, basta. Mi sa che la porta dalla quale il vol sempre voleva farci uscire. E' la porta dove sto intendo il rischio. Probabile. 15 secondi. Ma sono troppo pano di merda. Quanto tanto ci vuole. Eeeh, hai più senti. E non è questa la finna più triste della storia. Buona. Beh, siamo dentro. Faccio. E questo si faceva con i piedi. Ok, ragazzi. Siamo dentro ma non so che cosa c'è. Qua cosa dobbiamo fare? Guarda che secondo me è sbagliato. Ah, dovevi spegnere le telecamere da qua. Questo non è il buco che dovevi aprire. Non è la porta che dovevi aprire. Dovevi aprire il cavolo. Il trap lo andava posizionato. Ma come qua c'è una porta di metallo qui, ragazzi? Qua andava posizionato. Ma come lo fa posizionare? Ma come no? In che compriamo i trapani cinesi, ragazzi. Eh, certo. Io c'ho F ma non me lo fa posizionare. Ma come no? Eeeh, qua è un grave problema. E non saprei... Ah, ecco qua. Fogito la tasca. Ma porca troia. E' veramente... Anche la sto facendo io, ragazzi. Sono chiuto io. Devo parlo io di questo. Mancano solo 340 secondi. Si può fare, si può fare. Ma non si possono chiuderle forte una volta intanto. Sono morto! Sono morto! Mi sei male? Arrivo! Mi spacco tutti i sbirri di merda! Mi sto tirando su, mi sto tirando su! Sbirri di merda! Anche da sopra! Ho finito le munizioni! Merda! Sono a terra, sono a terra! Mi stai tirando su! Non sono in sei! Lo faccio in verio! Anch'io è veramente ferito! Chi è che mi aiuta? Sopi, grandi sopi! Mi strappano inceppato, ci penso io! Non c'è loro, sto sbloccando! Non lo ha bloccato! Ragazzi! Ragazzi sono morto! Anche io! Aia! Ci hanno morto tutti! Tiratemi su! Tiratemi su! Minchè sono arrivati con l'antisommossa! Io sono morto! Sono morto anch'io! Bene! Beh! Mi fa piacere sapere di avere un amico che non è capace di rapidare una banca! Mi fa piacere! Mi sento tranquillo! Almeno... Almeno tre diciamo! Però possiamo riprovarci! Visto che questa era la mappa facile! Sì! Meno male! Ok! Ok! A chi ci sta guardando... A chi ci sta guardando li rimandiamo! Stavano un attimo! Zitto un attimo! A chi ci sta guardando li rimandiamo al prossimo video nella quale sicuramente saremo più bravi di prima! Meno bravi è difficile! Meno bravi, più bravi di prima! Dai va bene! Ciao a tutti! Ciao! Quindi volete dire che ha aperto una porta spavigliata? Sì per un cazzo! È stato molto divertente però! A Natale scordati il biglietto degli auguri eh!